Abbiamo in campo Raffaella Nicolosi, Bonta Moonwalker in attesa latina, 195 di testiera. 43-17 il tempo di Pashvina, 4 le penalità in seconda fase. C'è un'altra parte di Pashvina, 5 le penalità in un'altra parte di Pashvina, 5 le penalità in un'altra parte di Pashvina. Il campo numero 196 si prepara alla partenza a Ottavro e Marianna Micheletti.